Per la gestione dei rifiuti siamo ormai consapevoli che prima o poi quello che buttiamo ci ritorna sotto forma di cibo, acqua o aria. Al secondo forum di Legambiente si è parlato di economia circolare, un modo per ridurre al massimo i nostri scarti. Ma come? Bisogna puntare innanzitutto sulla riduzione della produzione di rifiuti e poi sul loro riuso e sul loro riutilizzo. Cioè far diventare il rifiuto non un problema ma una risorsa invece, come d'altronda avviene in tantissimi paesi europei. Questo è il grande obiettivo che abbiamo e la grande sfida che abbiamo. L'obiettivo non solo italiano ma europeo è quello dei rifiuti zero. È chiaro che per arrivare a questo ci vuole un cambiamento di cultura proprio di tutti i paesi. Vuole dire cambiare i cicli di produzione, vuol dire cambiare gli stili di vita. Credo che ci arriveremo, certamente non è un obiettivo a cui ci possiamo arrivare domani mattina d'amblè. In questo lavoro di riciclo abbiamo raggiunto in alcuni settori un tale livello che il nostro modello è esportato all'estero. Diciamo che abbiamo il modello che funziona bene perché in 31 anni di vita abbiamo recuperato qualcosa come 5 milioni e mezzo di tonnellate di olio usato e lo abbiamo rigenerato per intero. Questo vuol dire che entriamo in un'economia circolare nella quale niente va sprecato e il rifiuto prodotto alla fine è estremamente ridotto. Questo cambiamento culturale deve coinvolgere governi e aziende ma sarà irrealizzabile senza l'impegno di tutti i cittadini.